La Dasti, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, ha lanciato il progetto Prendiamoci Cura di Caltanissetta, insieme per il futuro della città. Il progetto mira a creare una comunità di cittadini attivi per il futuro della città e responsabili della buona riuscita di una raccolta differenziata di qualità e nella promozione della sensibilità. L'obiettivo è quello di migliorare la situazione dell'abbandono rifiuti, il problema molto sentito nel centro storico di Caltanissetta, e aiutare il senso di appartenenza e integrazione dei migranti presenti nel territorio. La raccolta differenziata è importante perché consente di limitare lo sfruttamento del territorio, riduce rifiuti da smaltire mantenendo più pulita la nostra città e permette un risparmio energetico. Dasti è l'azienda che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Caltanissetta e realizzerà nei prossimi mesi una serie di visite a domicilio presso le residenze dei cittadini migranti. Un mediatore culturale li incontrerà per supportarli e fornire loro tutte le informazioni. Le visite previste sono 400 e verranno realizzate da due mediatori culturali nelle zone del centro storico, nello specifico i quartieri identificati sono Provvidenza, San Domenico Angeli, Santa Croce Badia, Strada Foglia e San Calogero. Grazie. Grazie.